Nessun ricoverato in terapia intensiva e 40 ricoverati in malattie infettive e intanto comunque nei singoli paesi aumenta il numero dei positivi, soprattutto a Caltanissetta, ma invece la curva complessiva per la provincia resta stabile. Nelle dettaglio sono 375 i nuovi pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 118 a Gela, 109 a Caltanissetta, 33 a San Cataldo e gli altri distribuiti per tutti i paesi della provincia. Nelle dettaglio sono 1262 i positivi a Caltanissetta, 8 sono ricoverati in malattie infettive, sono invece 1616 i pazienti positivi a Gela in quarantena domiciliare, 15 sono ricoverati in malattie infettive. Sta arrivando purtroppo nuovamente a quota 5000 il numero dei positivi in tutta la provincia, sono 4850 i positivi che in questo momento sono in quarantena domiciliare, pare che si attenda un picco maggiore della curva nei prossimi giorni.